E' giunto al momento conclusivo il percorso educativo, il bene comune del territorio di Sciacca, le terme, promosso nei mesi scorsi dal Comitato Civico Patrimonio Termale e al quale hanno aderito diverse scuole della città. Stamattina all'interno della palestra della scuola media Inveges c'è stata la premiazione delle classi vincitrici del concorso scolastico. Tantissimi studenti, dai bambini della scuola primaria ai ragazzi delle scuole superiori, hanno avuto la possibilità di conoscere la storia, le caratteristiche e le potenzialità del patrimonio termale unitamente alle cause del suo attuale stato di abbandono. A conclusione di tale percorso conoscitivo infatti è stato chiesto agli alunni di diventare protagonisti realizzando degli elaborati video in cui esprimere con creatività idee, pensieri, riflessioni, speranze e proposte sulle terme di Sciacca. Sicuramente è stata una bella esperienza perché abbiamo conosciuto appieno le terme e abbiamo cercato anche di farlo capire. Noi abbiamo questo sogno, questo di fare riaprire le terme di Sciacca perché secondo noi è un patrimonio importantissimo e hanno chiuso poi quando noi eravamo piccolissimi quindi non abbiamo avuto modo di conoscerle e speriamo che questo sogno diventi realtà sicuramente. Noi abbiamo puntato sulla sensibilizzazione sia delle persone che guardavano il video, che guarderanno il video magari anche dopo per capire i lavori che abbiamo fatto noi ragazzi, ma abbiamo puntato anche su far capire che cosa servivano le terme anche per curare le persone o anche per avere un momento di relax e di benessere in famiglia o con gli amici. Voi invece nel vostro video di cosa avete parlato? Allora, intanto noi come classe seconda B della Scaturro abbiamo subito iniziato a condividere i compiti. Quindi la nostra storia parla di un vecchietto che incontra dei ragazzi che giocano a pallone. Il vecchietto sta appunto a simboleggiare quelli che hanno soffrito e quindi utilizzato delle terme. Quindi le hanno viste toccate con mani, quindi concreto e astratto. Questi ragazzi prendono un'etichetta dell'Acqua Santa, trovano un'etichetta mentre giocavano a pallone e questo vecchietto appunto spiega di cosa si trattano le terme. I ragazzi mettono subito in atto un loro programma, protestando con cartelloni, striscioni appunto per fare riaprire le terme. Noi come classe abbiamo rispettato i tempi del comitato, quindi ci siamo attuati. Qual è il messaggio che sta alla base di questo video? Allora, all'inizio appena abbiamo ricevuto dalle professoresse, come dire, la notizia è che si sarebbe svolto un concorso con il tema, quello delle terme, e ci siamo subito messi al lavoro. Ma non per vincere, bensì per mandare un messaggio, come diceva lei. Il messaggio è proprio quello, che noi ragazzi, per esempio la mia classe, purtroppo conosce cosa c'è dietro quel cancello che separa il parco delle terme da Sciacca, solamente grazie ai racconti dei nostri nonni e dei nostri genitori. Quello che vorremmo, come dire, il messaggio che vorremmo dare col nostro video è il fatto che noi ragazzi abbiamo bisogno delle terme. Le terme sono un dono della natura e in quanto tale devono essere protette. Le terme per Sciacca sono parte integrante della cultura e della storia e per questo devono essere valorizzate. Le terme sono il passato, il presente, ma per noi ragazzi devono essere anche il futuro. Michela Catanzaro, prima di partecipare a queste attività, a questa iniziativa, voi cosa sapevate delle terme? Pochissimo, perché considerando che le terme sono state chiuse nel 2015, quindi noi avevamo più o meno 6-7 anni, sapevamo veramente pochissimo, avevamo pochissimi ricordi e addirittura proprio niente. Siamo abituati semplicemente di solito a vedere il cancello nel famoso luogo delle terme, ma purtroppo non abbiamo potuto effettivamente vivere l'esperienza di visitare le terme. Le terme sono una fonte importantissima per la città, anche per il turismo, anche nella storia. Le terme di Sciacca sono state una metà importante per diverse civiltà ed è veramente un peccato che abbiano fatto questa fine. Quindi noi speriamo veramente che nel nostro piccolo, attraverso questo video, riusciamo effettivamente ad attivare qualcosa anche nella popolazione, quindi un messaggio di sensibilizzazione affinché riusciamo finalmente ad ottenere la riapertura del nostro patrimonio termale che è veramente così prezioso per noi. Nel nostro video ci sono due supereroi, uno che si chiama Sciacca e uno terme, che appunto rappresentano un po' noi tutti i cittadini, che ci vogliamo battere per una causa giusta, ovvero la riapertura delle terme. Questi due supereroi lottano protestando, chiedendo appunto la riapertura delle terme, perché tutti noi giovani vogliamo scoprire questa risorsa importantissima che appunto ci ha dato la natura e alla fine questi due supereroi riescono a fare riaprire le terme con l'aiuto di tutti i cittadini e quello che noi speriamo anche con i nostri video, ma non solo, speriamo appunto che un giorno noi ragazzi potremmo finalmente andare alle terme, perché noi vogliamo appunto conoscere le terme. I lavori prodotti sono stati esaminati da un'apposita giuria, composta da cinque componenti del Comitato Civico, che ha scelto quelli da premiare, uno per ciascuna scuola partecipante. Attribuiti in totale otto premi sotto forma di pergamene. A vincere il concorso è stato il video realizzato dalla seconda B della Scuola Media in Veges per l'estrema incisività della narrazione, per la sorprendente idea di assoluta forza comunicativa e per avere dato voce d'anima ad un grande messaggio di speranza perfettamente coerente con le finalità del progetto. Questa è la motivazione della giuria nell'attribuzione del primo premio assoluto. Premiati inoltre i video della quinta D della Scuola Primaria del Comprensivo D'Anti Alighieri come miglior video d'istituto, della quinta H dell'Istituto Superiore Amato Vetrano come miglior video della scuola, della prima D dell'Istituto Superiore Tommaso Fazzello come miglior video dell'istituto e come video più votato su Facebook per le scuole superiori, della seconda B della Scuola Media del Comprensivo Dante Alighieri come miglior video dell'istituto, della terza A del Comprensivo Mariano Rossi anche questo come migliore lavoro della scuola, della seconda H della Scuola Media in Veges come video più votato su Facebook per le scuole secondarie di primo grado e della seconda C dell'Inveges per l'originalità, la varietà di espressione, la coralità in un video che fa sognare un futuro possibile. E c'è grande soddisfazione tra i componenti del Comitato Civico Patrimonio Termale. Questi figli di Sciacca, questi giovani, hanno veramente il diritto di poter contare su un futuro in cui questo bene ritorni nella disponibilità e per bene, ricordiamolo sempre, intendiamo, le acque e le grotte vaporose, questo è il patrimonio termale, non tanto gli immobili. Io guardando i video che contengono dei messaggi veramente importanti, delle idee, delle emozioni, mi è capitato di pensare, non solo tante volte dico muovermi, ma di pensare che se solo uno, l'ho detto poco fa nell'intervento, se solo uno degli assessori regionali o dei presidenti della regione che si sono succeduti negli ultimi 15 anni, avesse avuto, come posso dire, la capacità di capire e la saggezza che questi ragazzi hanno messo in questi video, le terme di Sciacca sarebbero già riaperte.